Il momento è d'oro per Sonny Colbrelli dopo la zampata rifilata al diciottesimo Memorial Marco Pantani. Il campione italiano ed europeo elite si è lasciato alle spalle in una volata bagnata micidiale Vincenzo Albanese della Eolo Cometa e Alex Aramburu portacolori della Stana Premier Tech. Saltato il trofeo Matteotti in Abruzzo, il ciclista Lombardo può rifiatare e concentrarsi sul mondiale di categoria nelle Fiandre in programma domenica 26 settembre. Sì, è stata una gara un po' tirata, l'UE ha controllato, poi bisognava stare attenti a non cadere con la pioggia e dopo in volata sono partito lungo, però ho vinto, mi dà ancora più morale per domenica prossima. Grande soddisfazione ha espresso l'imprenditore romagnolo Pino Buda a supporto della manifestazione. La manifestazione è stata eccezionale anche perché alla fine c'è stato un vincitore di primo piano per cui quando vince il campione europeo io credo che la manifestazione abbia toccato il cielo.